Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta nel mio canale L'estate è terminata e finalmente sono riuscito a riprendere pieno possesso della mia stanza alias studio, alias ambiente di lavoro, alias luogo dove passo circa 20 ore della mia giornata Oggi sono qui per dirvi che gli orari dello streaming su Twitch stanno cambiando Eravate stati abituati alle live il lunedì, mercoledì e il giovedì ma adesso che sono di nuovo in questa casa posso cambiare gli orari e renderli più piacevoli per tutti Molti di voi infatti sono tornati a scuola, all'università, al lavoro e quindi non possono più seguire le live in pieno pomeriggio Ma basta parlare, andiamo direttamente a vedere i nuovi orari Come potete vedere da questa immagine, sperando di non essermi messo troppo sulle scritte Adesso ci sarà una live anche di martedì e di venerdì Il lunedì e il martedì dalle 5 alle 8 di sera Il mercoledì dalle 3 alle 8 Il giovedì dalle 4 alle 8 E il venerdì dalle 9 a mezzanotte E ho voluto anche suddividere i giorni per categoria Il lunedì e il martedì giochi casuali Potrebbe essere League of Legends, potrebbe essere Pokémon Xenoverse Infatti ci sto giocando tantissimo Potrebbe essere Overwatch, potrebbe essere Dead by Daylight Non importa L'importante è che voi lasciate un mi piace alla pagina Facebook Link in descrizione, come sempre Per essere informati sulla live del giorno Il mercoledì e il giovedì giocheremo a League of Legends Che siano ranked, che siano normal, che siano game con i follower Questo non ha alcuna importanza Mentre il venerdì, a grande richiesta, diventerà la giornata dei giochi horror Inizieremo con Alien Isolation Sperando di riuscire a terminarlo senza morire di infarto E proseguiremo con altri giochi Rigidamente dalle 9 di sera a mezzanotte Perché, boh, fa più bello giocare horror di notte Spero che questo breve video vi sia piaciuto Io sono Ethereum e ci vediamo in un prossimo video O in una live Ciao!